Allora, riprendiamo oggi il discorso della settimana scorsa sugli indicatori che sono la base della costruzione dei sistemi informativi per il management. Avevamo iniziato ad affrontare vari tipi di scale di misura, perché poi di fatto vedremo più avanti che ciascun tipo di indicatori che noi possiamo andare a raccogliere dal nostro sistema informativo e ampiamente anche dal nostro sistema diandale, si mappa su una di queste scale. Giusto per riassumere molto rapidamente, noi avevamo visto le prime due scale, le più semplici, la scala nominale in cui un determinato elemento misurato veniva mappato su un insieme di valori, dei quali potevo solamente dire se fossero uguali o distinti, e quindi di fatto una mapping che raggruppava gli elementi misurati in varie classi. Nominale proprio perché si dava un nome a ciascun elemento, ma queste classi non erano legate in alcun modo tra di loro né da relazione di ordine né da relazione di valore. Le classi le potevo chiamare 1, 2, 3, oppure le stesse classi 3, 2, 1, 300, 227, il valore numerico aveva solamente la funzione di distinguere una classe dall'altra, ma non implicava alcuna ordine tra classe. La scala ordinale invece, come dice il nome, aggiunge alla scala nominale la nozione di ordine. Quindi gli elementi sono mappati su classi, ma queste classi tra di loro sono ordinate. Io posso dire che una classe viene prima o dopo un'altra, quindi il valore di quella misura può essere maggiore di un elemento rispetto a quello di un'altra. In entrambi i casi, dicevamo, nella scala nominale, ciò che ci interessava era appunto raggruppare gli elementi con delle etichette e poi praticamente queste etichette assumono poi un valore numerico, che sia un numero, che sia una stringa, un valore dentro un database, dentro un modello, che di per sé è ordinabile. Cioè anche se io qui dicessi che I e X sono le tre etichette di queste tre classi, le posso mettere in ordine alfabetico. La E viene prima della I e la I viene prima della X. Quello a cui devo fare attenzione è che non devo mettere in ordine alfabetico, non devo neanche pensarci, perché quelle sono etichette, le etichette presi in astratto, la E, la I, la X, sono ordinabili, ma quando rappresentano gli elementi di una scala ordinale devo resistere alla tentazione di metterli in ordine, proprio perché la quantità che stanno misurando non è suscettibile di ordinamento, non è una quantità ordinabile, dicevamo le regioni, eccetera. Nentre nella scala ordinale abbiamo un elemento in più, perché possiamo vedere quale classe viene prima o dopo quale altra classe. Quindi anche qua i valori numerici non mi interessano, non mi devono interessare, se no per l'unica operazione aritmetica che ci posso fare, che ha senso fare, che è lecito fare su una scala ordinale, che è il confronto, maggiore o minore. Già ad esempio la differenza 2-1 e 3-2 non hanno senso. In una scala ordinale io so che la seconda classe viene dopo la prima, la terza viene dopo la seconda, ma la differenza tra 1 e 2 e la differenza tra 2 e 3 non è quantificata. Io so che la 1 viene prima della 2, la 2 viene prima della 3, ma la distanza tra la 1 e la 2 può essere molto più piccola o molto più grande della distanza effettiva tra 2 e la 3. Queste distanze tra le classi non le posso misurare, non le posso esprimere, non sono rappresentate da una scala di tipo ordinale. E quindi non ha senso fare né delle somme né delle sottrazioni tra questi numeri, tanto meno dei rapporti. Perché se l'unica cosa che vale, l'unica informazione che ho è che gli elementi sono in un certo ordine, io posso, devo avere il diritto di cambiare questi valori, senza cambiare i valori che uso per rappresentare le classi, senza per questo inficiare l'esito della misura. Se io calcolo, come abbiamo visto la volta scorsa, la moda o la mediana di una distribuzione ordinale, è indipendente questo dal valore che assegno come valori numerici per le classi. Se calcolassi la media, questa media cambierebbe. Ma perché la media che cosa fa? Somma tra i loro valori. Quindi somme e sottrazioni non sono permesse perché quei numeri non hanno un significato se non per l'ordine relativo. Ecco, andiamo verso le scale più ricche. Le scale più ricche cominciamo ad assumere, ad attribuire un significato, anche i valori dei numeri, non solamente alla loro posizione. Il gradino successivo è la cosiddetta scala degli intervalli, scala ad intervalli, interval scale. Una scala di intervalli è una scala nel quale vengono mantenuti l'ordine e la differenza tra le classi. Quindi rispetto a prima posso dire non solo chiaramente la classe 2 viene dopo la 1, ma parlare di distanza, differenza tra la classe 2 e la classe 1 e confrontarla magari con la differenza tra la classe 3 e la classe 4. Quindi comincia ad aver senso fare operazioni di confronto aritmetico, quindi sottrazione ad esempio, ma se lo faccio a sottrazione posso anche fare l'addizione algeplicamente alla stessa operazione, tra i valori numerici delle classi. Quindi ha senso fare addizione e sottrazioni in una scala di tipo intervallo. Sono scale che preservano l'ordine degli elementi e le differenze e le distanze tra questi elementi. Non preservano il valore assoluto. Potrebbe non interessare il valore assoluto. Prendiamone una da cui, diciamo così, è facile anche ricordare il perché del nome di questa scala. un intervallo di tempo. Io ho degli intervalli di tempo, posso avere una lezione che dura un'ora e mezza, questo è un intervallo di tempo. L'intervallo di tempo è appunto un intervallo, un punto di inizio e un punto di fine. Ha una durata che può essere confrontata, come una lezione da 3 ore è più lunga di una lezione di un'ora, anzi, posso dire che la lezione da 3 ore è un'ora e mezza più lunga della lezione di un'ora e mezza. Pare queste differenze. Però il tempo non è assoluto. Io non posso dire, per capirci, che la lezione alle ore 13 è inferiore della lezione alle ore 14 e 30. O è, dunque, posso dire che arriva un'ora e mezza prima, posso fare che 14 e 30 meno 13 fa un'ora e mezza. Ma ad esempio non potrei fare il rapporto di quanto? È il 10% maggiore, è il 20% maggiore? Per capirci, sono numeri su cui ha senso, pensiamo all'orlogio, su cui ha senso fare differenze e non ha senso fare rapporti. Per esempio pratico, dalle 8 alle 9 del mattino c'è un'ora. Dalle 20 alle 21 di sera c'è un'ora. Quindi la differenza è la stessa. Però il rapporto 9 diviso 8 e il rapporto 21 diviso 20 sono diversi. Ha senso che siano diversi? No. Ciò che mi interessa è la differenza. Ciò che ha senso che mi interessa è la differenza. Il valore assoluto, quindi il valore assoluto è il base al quale fare eventualmente dei... Che differenza c'è empiricamente, matematicamente tra una differenza e un rapporto. E quando faccio le differenze l'unica cosa che devono avere in comune le quantità che sto sottraendo è l'unità di misura. Se voglio fare un rapporto devono avere in comune anche lo zero. Le unità di misura devono partire entrambe dallo stesso punto. Allora, se io faccio la differenza tra due istanti di tempo, lo misuro in ore, lo misuro in minuti. Una volta che ho deciso l'unità di misura, le differenze sono poerenti. Proprio in queste ore le misuro a partire da quando? A partire dalla mezzanotte di oggi? A partire dalla mezzanotte di lunedì? A partire dal primo gennaio 1970, come fanno i computer? Non lo so, è un'informazione in più che dovrei avere. In una scala di intervalle non mi interessa questa informazione in più. O non ce l'ho, o non mi interessa, o non mi serve. Quindi sono accettabili tutte le trasformazioni che passano da una misura a un'altra con una formula lineare non uniforme. Non omogenea, si diceva quando si faceva la geometria, le formule omogenee sono quelle in cui il termine noto è nulla. Per passare dalle ore ai minuti, A vale 60 e B vale 0. Ma posso avere anche la temperatura. Pensate a temperature in gradi Celsius o in gradi Fahrenheit. Sono due scale di temperatura che hanno chiaramente dei coefficienti dell'unità di misura diverse, l'ampiezza del grado Celsius e del grado Fahrenheit sono diverse, 22 settimi, un fattore di questo genere che adesso in questo momento non ricordo la memoria, più un offset. Perché i gradi Celsius usano lo 0 alla temperatura di congelamento dell'acqua, i gradi Fahrenheit invece ci danno 20 gradi sotto. E i gradi Kelvin ce l'hanno a meno 273. Ma tutti e tre sono misure di temperatura. di cui ha senso confrontare gli intervalli. Se io confronto, facciamolo semplice con A uguale 1, i gradi Celsius con i gradi assoluti, Kelvin, posso dire che due temperature hanno tre gradi di differenza. sia che si è misurato in Celsius che in Kelvin, il grado è sempre il grado. Quindi esiste una categoria di misure, di quantità, di cui il valore misurato fa riferimento a uno 0 che può essere posto in punti diversi e può essere arbitrario. Allora, quando io posso spostarlo 0 significa che non ha senso fare dei rapporti, delle frazioni, perché altrimenti spostando semplicemente l'unità di misura cambierà il valore dei rapporti. E quindi sono unità su cui ha senso solamente fare delle differenze, ovviamente conoscendo l'ampiezza dell'unità di misura corretta col coefficiente A. Ad esempio, io ho un progetto e voglio sapere da quanto tempo è iniziato questo progetto. Intervallo di tempo, ad esempio, è più facile. Non su queste scale di intervallo ragionare sui tempi. E allora, posso dire che il progetto è iniziato da 8 mesi o da 1,5 anni o posso misurare mesi, in anni, in giorni. Ma lo sto sempre misurando rispetto a un calendario che posso mettere all'inizio del progetto, al primo gennaio dell'anno in cui il progetto è iniziato, ma non mi interessa quando lo metto il calendario. Come disegno il mio Gantt, no? Immaginatevi un Gantt di progetto. Allegando il disegno su un calendario astratto che comincia da 0 e misura il tempo in mesi di progetto, lo disegno nel calendario reale che comincia a dicembre 2014 e avanti con gennaio, febbraio, marzo 2015. sono due scale diverse. Però la durata del mese è la stessa. L'intervallo di tempo che misuro nelle due scale è diverso. L'intervallo di tempo che misuro nelle due scale è uguale, anche se le due scale sono diverse, anche se lo 0 è diverso. Poi posso avere un Gantt disegnato in mesi e l'altro disegnato in anni o in giorni e posso passare facilmente dall'uno all'altro. però non posso dire che nel Gantt disegnato sul calendario reale siamo più avanti perché siamo già al mese 12 nel senso che è dicembre. Il valore assoluto non ha senso. Parlando di un intervallo bisogna sempre confrontare un inizio con una fine. Se ho solo uno dei due estremi non vuol dire nulla la misura perché se non so dove ho messo lo 0 dove ho messo l'inizio dell'intervallo è un valore a caso che dipende da come ho messo il righello sul foglio, essenzialmente. Qui c'è un esempio di un progetto che viene misurato in due modi diversi dal project manager e dall'amministratore dell'azienda dove il project manager fa il suo lavoro visto che ha come suo interesse l'avanzamento del progetto conta i mesi a partire dal primo aprile 2010 che è la data di inizio del progetto iniziano al primo aprile i progetti perché così fa ridere. Mentre invece l'amministratore che è più interessato alle prestazioni dell'azienda nell'anno fiscale conta l'attività a partire perché poi magari avrà sotto il suo occhio più progetti diversi che la cui data di inizio è diversa ma allora vuole andare a vedere le prestazioni dell'azienda nell'anno quindi conta lo stato di avanzamento misura il progetto in termini di mesi dal tra l'altro dall'anno dall'inizio dell'anno fiscale in cui i finanziamenti sono arrivati in cui il budget è stato attribuito e quindi in questo caso lo conta in anni e lo conta a partire da una data diversa ma questi due signori potranno mai essere d'accordo sullo stato di avanzamento del progetto? Sì hanno due unità di misura diverse questo in mesi ed altri anni hanno due punti di inizio diversi questo è il primo aprile 2010 l'altro il primo gennaio 2011 ma sono riconducibili facilmente attraverso una formula di questo genere allora quando delle unità di misura delle scale di misura sono riconducibili una all'altra attraverso una formula lineare non omogenea di questo genere siamo di fronte proprio a una misurazione ad intervalli una scala di intervalli in cui non dirai mai mese 12 ma dirai sempre mese 12 dall'inizio del progetto o dall'inizio dell'anno cioè devi sempre specificare rispetto a che cosa stai misurando l'intervallo e quindi di fatto implicitamente stai facendo una differenza allora con valori di questo genere che cosa posso fare? allora qui abbiamo il nostro schemino che ci dice quali operazioni statistiche ha senso fare per rappresentare le nostre misure le operazioni di contare e mettere in ordine ce le ereditiamo rispettivamente dalla scala nominale che ci dice quanti sono apprezzati su una classe e dalla scala ordinale che ci dice che le classi possono essere messe in ordine qui adesso si aggiungono tutte le operazioni aritmetiche che sono la somma la differenza e il rapporto tra differenze questa che è indicata qua con la divisione scalare cioè il rapporto tra due differenze non tra i valori assoluti ma tra le differenze di valori assoluti e potendo usare somma e sottrazione in termini statistici ha senso comincia a aver senso per la prima volta parlare di media comincia a aver senso a parlare di media comincia a aver senso a parlare di media perché posso fare somma e sottrazioni e posso fare somma e sottrazioni perché posso dire che la differenza tra la classe 1 e la classe 2 e ad esempio la differenza tra la classe 7 e la classe 8 è uguale dalle 8 alle 9 del mattino e dalle 8 alle 9 di sera cioè dalle 20 alle 21 c'era sempre la stessa differenza sto confrontando intervalli cioè differenze e gli intervalli si possono tra di loro sommare e sottrarre allora se li posso sommare posso fare la media qui non solamente la moda o la mediana dei vari percentili che lavoravano indipendentemente dal valore tenendo conto solamente della frequenza la moda o anche dell'ordine la mediana e i percentili in questo caso lavoro sui valori la media è un'operazione che voi conoscete benissimo di solito la calcolate 3-4 volte al giorno quella degli esami come se uno ricalcolandola aumentasse è un indicatore che voi tenete sempre sotto controllo ha senso o no? da un punto di vista statistico dal punto di vista della misura ha senso se la misura di cui state facendo la media cioè i voti degli esami fosse una scala di intervalli allora proviamo a chiedercelo quali sono le proprietà che deve avere una scala di intervalli beh innanzitutto deve avere tutte le proprietà di una scala nominale cioè i voti sono tutti diversi tra di loro prendere 20 e prendere 28 sono due cose diverse sì siamo d'accordo prendere 18 e prendere 18 è la stessa cosa è una scala ordinale prendere 20 è meglio che prendere 18 prendere 28 è meglio che prendere 20 quindi fino all'ordinale siamo tranquilli è una scala di intervallo? cioè la differenza tra 18 e 19 e la differenza tra 29 e 30 è la stessa? mi sento in imbarazzo anche solo a farla questa domanda mi suona strano che senso ha parlare di differenza tra due voti? non riesco a collocarlo non riesco a spiegarmela io so che probabilmente dare 29 a 1 è meglio vuol dire se do 29 a 1 28 all'altro vuol dire che per qualche motivo ritengo che uno abbia fatto un lavoro leggermente migliore dell'altro però questo leggermente migliore confronto l'uno con l'altro ma poi ho altri due che arrivano uno con il 19 e l'altro con il 20 e allora quello del 20 avrà fatto leggermente migliore meglio scusate del 19 ma questa leggera miglioramento che c'è nell'arco del 29 e quello che c'è nell'arco del 19 io non sono in grado di confrontarli non saprei dire non so neanche come capire la domanda noi usiamo il sistema di voti come un sistema numerico ma non lo è è un sistema ordinale giusto? non è che se rispetto a uno che ha preso 24 quello che ha preso 28 quindi 4 punti in più ha fatto 4 volte meglio di colui che ha preso 25 quindi un punto in più cosa vuol dire? non ci riesco io so che ha fatto meglio ma quanto di più meglio? non posso quantificarlo non è qualcosa di misurabile di definibile ok? quindi ad esempio quello dei voti non è una scala ad intervalli è una scala solamente ordinale per cui non avrebbe senso non dovrebbe aver senso calcolare la media poi dimenticate il fatto che legalmente voi uscite con un voto di laurea che è determinato dalla media quello è così lo si fa ma chiunque sa che non ha senso con qualcosa deve uscire e quindi tratto una scala ordinale come se fosse una scala intervalli anche se non lo è tutti sanno che non lo sia ma ve ne accorgete quando andate in Erasmus università che trovi sistema di voti che trovi e come fanno a convertire i voti che prendete puttacaso in Germania in Danimarca in Spagna in UK nel nostro sistema magari ti danno dei voti ABCD ti danno dei voti su scala 10 su scala 8 su scala 4 di sicuro non si applica una formula di questo genere sarebbe sbagliato per fortuna questo non lo fanno cosa fanno? beh si va a valutare quella che è la distribuzione di frequenza dei voti nelle università ospite cioè se tu hai un'università in cui dai voti i voti sono dati di scala ABCDE per dire dove A è l'ottimo e l'E è l'insufficiente è un mondo anglosassi tende un po' verso questo sistema di valutazione allora si va a vedere statistiche alla mano quanti A sono stati dati quanti B quanti C quanti D quanti E quindi si fa di fatto il ranking della distribuzione si mettono in fila i voti e si dice quanti sono del primo quanti sono del secondo quanti sono del terzo della terza classe quindi devo conoscere la classe devo conoscere l'ordine tra le classi ovviamente e quindi se tu sa hai preso A sei tra i migliori non so 18% studenti quanti sono allora andiamo a vedere sulla distribuzione nostra in voti trentesimi qual è il range di voti che copre il 18% più alto della distribuzione dei voti e ti darò un voto che deve essere tra quelli quindi si fanno confronti e traduzioni basate sul ranking sull'ordinamento delle classi sulla popolazione delle classi su quanto sono piene ma non sul valore ok non è che A vale 8 e B vale 7 o A vale 30 e B vale 17 dipende tra l'altro dipende non solo dal sistema dipende dalla singola università se vai in due università diverse un B preso in università e un B preso in università diversa possono essere convertiti in valori diversi possono essere equivalenti a voti in trentesimi diversi è complicatissimo eh lo so anch'io che sarebbe più semplice far finta di niente dire che A vale 30 B24 e C18 e così via ma non sarebbe corretto ok quindi l'errore che si fa spesso l'altra volta vi citavo i questionari della didattica che tra l'altro vi invito a fare perché stanno cominciando ad arrivare le mail di sollecito e per me sono molto importanti purtroppo non sono altrettanto per il politecnico e quindi anche lì ci sono scale ordinali di cui viene fatta la media anche questo non ha molto senso ma sopra sediamo e quello dei voti è un'altra scala ordinale sono due esempi per dire che molto spesso per comodità una scala ordinale viene trattata come se non lo fosse come se fosse più ricca creando poi delle distorsioni delle distorsioni nell'analisi per cui poi arrivano poi tutti i correttivi del caso i punti in più che ti sommano per calcolare la laurea ti tolgo i sei crediti che pesano di meno tutti questi correttivi perché alla fine prendendo quello lì e usandolo come fosse una misura vengono fuori delle schifezze perché se fai la media di una cosa di cui non ha senso vengono fuori dei valori che non sono rappresentativi del giudizio che tu vorresti dare alla persona quindi sempre di giudizio si tratta mascherato da un'oggettività fatta sulla base di numeri che vengono manipolati un pochino violentandoli perché vanno al di là del valore che può avere invece nelle scale veramente a intervalli queste operazioni hanno senso se io dico qual è la durata media delle mie lezioni andiamo a prendere i filmati vediamo quanti minuti sono facciamo la media viene fuori un numero preciso esatto ha senso se tra i vari mercoledì qual è l'elezione più breve qual è l'elezione più lunga dipende con quanti minuti di ritardo inizio quanti millisecondi prima dello scoccare delle due e mezza finisco posso fare queste differenze posso avere qual è la più corta qual è la più lunga e di quanto quindi dire che ah ma oggi hai parlato per tre minuti più della volta scorsa questo tre minuti è il triplo di un minuto non sono i tre punti che sono il triplo di un punto di differenza no quindi non solo operazioni semplici come la media e tutte le sue derivate media aritmetica attenzione non media geometrica media aritmetica è quella che si fa sommando i valori eventualmente moltiplicati per la frequenza e dividendo per la somma dei numeri la media geometrica si fa moltiplicando tra i loro valori e noi moltiplicarli non possiamo non abbiamo ancora il permesso di farlo e poi tutte le misure di primo ordine come la varianza no la misura degli scostamenti varianza scarto quadratico medio le misure le statistiche semplici quelle che si capiscono no poi ci sono tutte quelle difficili e questo per quanto riguarda la scala di tipo intervallo andando ancora un pochino più su c'è la scala quello di detta dei rapporti ratio scale una scala di rapporti è di fatto una scala di intervalli in cui vengono preservati quindi ha senso fare ha senso valutare anche i rapporti tra le varie entità che è la scala diciamo della fisica quando andavate in laboratorio di fisica andavate a misurare la distanza la velocità il tempo eccetera era una scala di questo tipo c'è uno zero ben definito velocità zero è quando è fermo posizione zero è quando è all'inizio del percorso e quindi ha senso fare rapporti di velocità rapporti di posizione rapporti di tempo e così via lo zero è uno zero effettivo non convenzionale nelle temperature lo zero è un valore convenzionale infatti lo zero della scala celsius e quello della scala fahrenheit sono messi in posti diversi mentre invece quando parliamo di una scala rapporti lo zero è effettivamente l'assenza misuriamo i soldi se sono zero sono zero non è arbitrario sì è zero ma io lo chiamo 20 no è zero non ne hai fine quindi ci sono delle quantità fisiche di cui lo zero rappresenta veramente l'assenza di valore di qualche cosa delle unità e quindi abbiamo tutte le unità di misura quelle classiche quelle classiche diciamo della fisica come dicevo prima unità di misura se andate a vedere per dire in fisica con l'esclusione forse solo della temperatura sono tutte scale e tu puoi misurare le cose in metri in pollici in centimetri in millimetri in spanne ma l'unica differenza che c'è tra una scala e l'altra è il fattore di scala cosiddetto cioè un coefficiente moltiplicativo costante che ti converte un pollice che sono 2,54 centimetri un centimetro sono 0,01 metri e così via no? sono le cose che facevamo le elementari e basta passare visto che la natura della misura è il fatto che lo 0 è fisso comune a tutti e siamo comunque in una scala di intervallo quindi le unità di misura sono uniformi la differenza tra 1 e 2 e tra 2 e 3 devono essere uguali sia che si parli di centimetri sia che si parli di pollici la differenza tra 1 e 2 pollici e tra 2 e 3 pollici sono uguali tra di loro tra 1 centimetro e 2 centimetri e tra 2 centimetri e 3 centimetri hanno un'altra entità ma sono uguali tra di loro quindi sono scale in cui le divisioni la retta dei numeri è fatta di intervalli con ugual divisione sono tutti uguali questo lo renditiamo da una scala di intervalli la differenza tra 1000 e 1001 è la stessa che c'è tra 5 e 6 e in più lo 0 è in comune e quindi l'unica trasformazione lecita tra una scala e l'altra è quella della moltiplicazione se pensiamo di nuovo i voti ci accorgiamo di nuovo che siamo molto lontani il voto 0 cosa vuol dire? avete mai preso 0 di un esame? spero che non ci sia nessun collega così folle da darlo infatti tante volte i voti insufficienti non vengono neppure quantificati non ti danno 3 o 6 ti dicono insufficiente o respinto perché lì non stai più misurando non ha più senso la misura mi accorgo che a maggior ragione che la scala non è una scala rapporti quando avvicinandomi allo 0 come misure perdono significato le cose allora vuol dire che quello 0 lì non è uno 0 vero è messo lì in realtà i voti cominciano da 18 lo 0 dei voti è il 18 di meno si chiama insufficienza punto è un'altra cosa ordinale la insufficienza viene prima del 18 ma di quanto non lo posso dire ecco invece sulle scale rapporti ha senso a questo punto non solo fare intervalli ma anche fare come dice il nome i rapporti va il doppio più veloce è andato il doppio più lontano e questo vuol dire che ne so pensiamo all'età di una persona l'età di una persona è qualche cosa che ha uno 0 ben definito perché la persona in un determinato punto del istante di tempo è nato o nata da lì in poi posso cominciare a contare l'età in giorni mesi anni quello che volete ma sono tutte scale che differiscono solamente per un coefficiente moltiplicativo non c'è dubbio sullo 0 non ci sono scale diverse che possono sensatamente mettere lo 0 in un punto diverso parlando di età quindi effettivamente l'età è un attributo di tipo rapporto di tipo proporzionale potremmo anche chiamarlo lineare mi viene quasi a dire reale ma purtroppo non posso usare questo termine allora cosa posso fare? beh lo dice il nome Rescher posso fare moltiplicazione di divisioni divisioni ha quasi sempre senso farle è un modo per calcolare le differenze relative una misura è il doppio di un'altra è il 10% più di un'altra quando faccio il 10% la differenza percentuale sto facendo un rapporto ovviamente non una differenza sto facendo il rapporto misura 2 diviso misura 1 meno 1 meno 100% questo mi dà la differenza percentuale un rapporto non è una differenza la moltiplicazione ho messo tra parentesi perché la divisione di solito ha più senso ha senso sempre in questo tipo di scale la moltiplicazione dipende moltiplicare tra di loro due età non ha particolare significato moltiplicare due lunghezze magari sì quindi dipende però questo dalla natura fisica dell'unità di misura matematicamente aritmeticamente ha senso è coerente eseguire la moltiplicazione bisogna poi capire qual è il risultato ad esempio la moltiplicazione poiché la posso fare potrei definire anche la media geometrica non solamente quella aritmetica la media geometrica sapete che è quella che si ottiene facendo il prodotto di tutte le misure moltiplicate tra di loro e poi il prodotto messo sotto radice di indice n dove n è il numero di elementi quindi se ho tre misure faccio la prima per la seconda per la terza tutto sotto radice cubica perché ne ho tre che è la media aritmetica dei logaritmi quindi in qualche modo anche il logaritmo ha senso su questo tipo di rapporti proprio perché posso vedere una scala e queste sono le misure diciamo aritmeticamente più ricche esiste poi ancora un'altra scala che un pochino si discosta dalle altre può essere forse vista da un caso particolare della scala rapporti ma limitata ai numeri interi che qui viene chiamata scala assoluta e implica l'azione del contare contare quante persone ci sono e qui non c'è unità di misura che tenga non c'è scala non c'è variazione possibile contare è un valore assoluto quante persone sono 40 30 32 quello è un numero non posso non c'è non posso misurarlo in un modo diverso a tutte le proprietà precedenti quindi contare è alla proprietà nominale cioè 7 persone è diverso che 6 alla proprietà ordinale 7 persone è più di 6 alla proprietà degli intervalli la differenza tra 6 e 8 persone è la stessa differenza che sia tra 10 e 12 persone cioè di 2 persone e la differenza è la proprietà dei rapporti 10 persone è il doppio di 5 persone ma in più è lo 0 persone significa che non c'è nessuno quindi ha un significato ben preciso non è arbitrario quindi è a tutti gli effetti una scala almeno ricca quanto le precedenti ma in più di fatto blocchiamo l'unità di misura e anche blocchiamo i valori perché l'atto del contare restituisce dei numeri naturali interi positivi non è ambiguo non può essere fatto in modi diversi quindi le trasformazioni possibili su una scala assoluta sono nessuna cioè il numero di persone e quello è il numero di persone fine non è che possiamo contarlo in modi diversi ok quindi il mapping è univoco non posso decidere varie funzioni di mapping diverse che poi sono ricondicibili l'una all'altra attraverso una formuletta no e però pure sembrerebbe quasi la più semplice come scala perché dici ma sto contando non è che sto facendo operazioni complicate e però andando a vedere l'operazione di contare ha tutte le proprietà che ci servono e il risultato sono dei numeri naturali che sono veri e propri numeri e quindi su questi numeri naturali posso fare ha senso fare tutte le possibili analisi aritmetiche quindi somma sottrazione moltiplicazione come prima questa è una scala particolare ma è in un certo senso frequente si trova quando quando si vanno a diciamo così valutare degli indicatori in un processo cioè il numero di utenti quella è una scala assoluta non misuro in chilogrammi lo misuro in numero poi bisogna fare attenzione ad alcune ambiguità a volte ci sono delle trappole ad esempio quando avevo un progetto a volte un attributo possibile di questo progetto è quante persone ci lavorano allora dipende un attimo come lo definiamo se avessimo progetti in cui le persone possono lavorare solamente a tempo pieno allora è univoco quante persone diverse stanno lavorando quel progetto lì è tempo pieno esclusivo ma normalmente nel project management tu hai delle risorse cosiddette questo è il nome che danno le persone per indicare il rispetto hai delle risorse che vengono allocate su progetti e quindi una persona può essere allocata scusate non vi scusare risorse una persona viene allocata al 50% su un progetto al 30% su un altro al 20% sull'altro ancora allora quello che prende il nome dell'equivalente a tempo pieno c'è anche la sigla non so se avete sentito FTE full time equivalent cioè qual è l'effort l'impegno su un progetto su un'attività in full time equivalent il numero di persone equivalenti se fosse a tempo pieno allora quando dici che ho tre full time equivalent può voler dire che ho tre persone che effettivamente hanno lavorato per un anno a tempo pieno o sei persone che hanno lavorato a tempo pieno per sei mesi oppure dieci persone che lavorano con percentuali variabili non fatemi fare i conti a mente perché non ce la faccio su un periodo di tempo di nove mesi allora in questo secondo caso non siamo di fronte a una scala assoluta perché lo posso misurare in modo diverso vedete che ho dovuto dire il numero di persone e l'intervallo di tempo e la percentuale di tempo sono misure diverse che combinate tra di loro come misura derivata ci danno il full time equivalent ma sto mettendo insieme misure le quali sono misure in questo caso di tipo rapporto cioè il numero di persone è una misura assoluta la percentuale del tempo è un rapporto perché va da 0 a 100 lo 0 è ben definito i rapporti ci sono di tempo e l'altra è una scala di tipo intervallo da quanto tempo a quanto tempo ho messo insieme tre misurazioni quante persone con che intensità con che percentuale per quanto tempo sono tre scale diverse assoluta rapporto e intervallo per ottenere una misura derivata che è quella del full time equivalent o dell'impegno su un certo progetto che è diverso rispetto invece al numero di persone a tempo pieno se veramente ci sono solo persone a tempo pieno o il numero di persone diverse indipendentemente dal loro impegno il numero di persone che sono passate di lì anche solo per 5 minuti allora quella è una misura assoluta quindi c'è una componente assoluta in questa misura ma quando poi andiamo a valutare la complessità dell'allocazione delle risorse perde la sua natura di valore assoluto e diventa una misura derivata misura derivata che può essere anche fuorviante il classico esempio che si fa nel caso del project management è che per partorire un bambino bastano 9 donne per un mese anziché una donna per 9 mesi ci sono alcune equivalenze sono sempre 9 mesi non mesi uomo mesi donna sono sempre mesi 9 ma non sono la stessa cosa i 9 mesi di una gravidanza è un valore assoluto non può essere mescolato in modo diverso e quindi fare i conti su delle risorse che sono delle unità derivate come se fossero unità primarie di nuovo rischia di darvi in mano dei risultati che poi non sono fattibili non sono sensati non servono a nulla quindi va bene manipolare i numeri ma bisogna sempre essere coscienti di che cosa sto facendo soprattutto sulle misure derivate trattandolo come fossero misure avere 10 persone a tempo pieno o 20 a 50% del tempo dei numeri sembrerebbe la stessa cosa ma nell'organizzazione del lavoro non lo è per nulla ecco l'altra cosa è dobbiamo ricordarci che quando parliamo di scala assoluta in qualche modo l'unità di misura non la vogliamo vedere non ci deve essere l'unità di misura deve essere semplicemente l'atto del contare quanti ne ho contati quindi ad esempio parlando di codice sorgente la lunghezza di un file che è misurata in bytes non è un numero assoluto è una scala di tipo rapporto mentre invece il numero di linee che vengono contate è invece una unità assoluta poi per carità sono piccole differenze in questo caso così come l'età l'avevamo già visto prima non è una scala assoluta perché io posso contare gli anni o contare i mesi quando ho un'unità di misura tra i piedi non potrò mai parlare di unità assoluta l'età abbiamo visto prima infatti è un'età di tipo scala di tipo rapporto una scala di tipo rapporto non una scala di tipo assoluto quindi beh questo è un po' il riassunto di queste cinque scale dove ci sono le trasformazioni possibili che abbiamo visto nel caso della scala nominale qualunque rimappatura da un insieme di etichette a un altro insieme di etichette purché sia uno a uno quindi non si perde informazione è ammissibile nelle scale ordinali posso trasformare un insieme di etichette in un altro insieme di etichette purché preservino l'ordine lo preservino o lo preservino in verso pensiamo all'esempio dei voti da noi 30 è maggiore di 18 e 30 è meglio di 18 nel sistema alfabetico a è minore di e alfabeticamente viene prima ma a è meglio di e quindi sono due sistemi ordinati 18 19 fino a 30 e l'altro partendo dal basso sarebbe edcba quindi va in un ordine inverso va bene lo stesso noi stiamo dicendo che le classi sono ordinabili è chiaro chi viene prima chi viene dopo non abbiamo detto se venire prima è meglio o peggio quella è una valutazione poi qualitativa che possiamo fare dopo l'importante è saperle distinguere e saperle mettere in ordine quindi quando parliamo di scale ordinali a un certo punto quando parliamo di indicatori di processo diremo sì questa è una scala ordinale che voglio misurare e sono contento se è alto il valore o sono contento se è basso il valore sono più facili da leggere di solito quando alto uguale bene però altre misure tipo il numero di errori è una scala assoluta in cui basso uguale meglio di alto quindi ciascuna di queste scale può essere sempre letta può sempre diciamo comparire nelle due direzioni vabbè dicevamo poi scale tipo intervallo scale tipo rapporto che sono legate a trasformazioni tipo lineari dove la seconda è caratterizzata dalla certezza dello zero e quindi dalla omogeneità delle trasformazioni e poi abbiamo la scala assoluta che è caratterizzata dal contare e basta poi a fianco ci sono degli esempi riassumo un pochino gli esempi che abbiamo anche fatto durante questo percorso allora a questo punto possiamo provare a chiederci se abbiamo capito provando a verificare se alcune affermazioni hanno senso o no se secondo noi hanno senso in funzione della misura che stiamo prendendo posso fare delle affermazioni che sono sensate oppure no e cosa vuol dire che non sono sensate beh un'affermazione che non è sensata è un'affermazione il cui valore cambia al cambiare della scala cioè se io prendo i valori applico una qualunque di queste trasformazioni ovviamente adatta al tipo di scala e provo a rifare l'affermazione scopro che un'affermazione che prima era vera diventa falsa o viceversa allora l'affermazione non aveva senso perché dipende dal valore specifico della scala che è stata scelta mentre invece affermazioni sensate che hanno senso sono affermazioni che se sono vere sono vere sempre indipendentemente dalla scala che scelgo le trasformazioni di scala che scelgo oppure se sono false sono false sempre indipendentemente dalla trasformazione di scala che scelgo ad esempio Fred è alto il doppio di Jane allora chiediamoci che misura stiamo prendendo quale tipo di scala ha e quindi proviamo a applicare delle trasformazioni valide su quella scala e vedere se questa affermazione è suscettibile di variazioni allora l'altezza è una misura di tipo nominale ordinale intervallo rapporto assoluto nessuno vuole sbilanciarsi ordinale ordinale di più rapporto ratio allora proviamo a vedere concitiamoci sulla misura lasciamo perdere un attimo la frase l'altezza misurare l'altezza alla quantità nominale cioè vuol dire che una persona alta un metro sessanta è diverso dall'altezza un metro sessanta è diverso dall'altezza un metro settanta sì un metro settanta è più di un sessanta sì posso fare i confronti e siamo all'ordinale intervallo la differenza tra un metro cinquanta e un metro sessanta la differenza tra un metro sessanta e un metro settanta cioè dieci centimetri in entrambi i casi è uguale sì ha senso dire che c'è questa stessa differenza di altezza sì nei voti non aveva senso potevo fare l'operazione ma non aveva senso il significato il risultato rapporto ha senso lo zero è comune qualunque sia la scala che scelgo dire che l'altezza è zero mi dà lo stesso risultato sì allora è perlomeno una scala di tipo rapporto non è una scala assoluta che sarebbe il quinto gradino perché il numero che ottengo se lo misuro in centimetri lo misuro in metri è diverso l'instituto non ha detto che sia un numero intero e poi dipende dall'unità di misura che scelgo quindi questa è la misura dell'altezza è una misura che viene fatta che richiede una funzione di mapping di tipo ratio di tipo rapporto adesso le varie funzioni di tipo rapporto come possono essere trasformate l'una nell'altra solamente attraverso la moltiplicazione per un coefficiente m' uguale a per m allora la domanda da farmi qui qua le analisi dell'affermazione o meglio del tipo di misura adesso la domanda da farmi per capire se quell'affermazione è corretta o no se ha senso o non ha senso è se io prendo due scale due funzioni di mapping quindi due scale di misura entrambe valide per l'altezza cambiare la scala di misura può rendere fred più alto di jane una volta e più basso in un'altra come valore numerico direi di no se la misura in centimetri magari è 1,70 è 1,80 se la misuro in metri sarà 1,6 1,8 se la misuro in pollici saranno altri numeri che a mente non so calcolare ma comunque il numero che rappresenta l'altezza di fred di fred supponiamo sarà sempre maggiore del numero che rappresenta l'altezza di jane qualunque sia la scala che scelgo quindi ha senso questa è un'affermazione sensata sì per carità basta guardarli uno è più alto di lei quindi lo so che ha senso dire che una persona è più alta di un'altra e non dipende lo posso dire senza ancora aver imparato l'unità di misura però se mi chiedo cosa vuol dire misurare mi accorgo che effettivamente ha senso anche matematicamente non solamente intuitivamente seconda affermazione la temperatura a Tokyo oggi è il doppio di quella a Londra a istinto secondo voi ha senso o no? no eh che vuol dire il doppio? cioè per carità io ho due gradi a Tokyo e un grado a Londra allora numericamente è il doppio aspetta ma che gradi sono? perché il doppio nel caso di gradi Fahrenheit i corrispondenti di un grado o due gradi saranno valori diversi la cui differenza cioè che non sono uno il doppio dell'altro saranno non so 24 e 25 o giù di lì Fahrenheit e il rapporto tra 24 e 25 non è di 2 a 1 ma poi che senso ha dire ho il doppio più freddo o il doppio più caldo posso dire o più caldo o più freddo molto di più ma non il doppio o il triplo allora proviamo a vedere perché non ha senso anche l'analisi diciamo così matematica ci conferma che non ha senso noi abbiamo la temperatura stiamo pensando a una misura di temperatura la misura di temperatura è una misura di tipo intervallo perché tutte le scale di misura di temperatura che abbiamo ad esclusione della scala Kelvin ma poiché è una delle tante e non è l'unica non è lei che ci fa cambiare idea ma in generale le scale di misura della temperatura di fatto vanno a misurare una differenza tra un valore di temperatura attuale e un valore di temperatura convenzionale che per la nostra scala Celsius è quella del congelamento dell'acqua è puramente una convenzione l'ho messo lì lo zero perché mi faceva comodo non ho idea di quale sia il significato fisico dello zero Fahrenheit non lo so ci sarà sarà il congelamento di qualcos'altro probabilmente che in quel momento è sembrato logico però è una convenzione arbitraria è una scelta così non ha un significato non ambiguo o non sostituibile lo zero gradi e infatti devo sempre dire zero gradi Celsius zero gradi Kelvin zero gradi Fahrenheit o la scala che volete inventarvi domani quindi è una scala di tipo intervallo e nelle scala di tipo intervallo non è lecito fare rapporti ma solo sottrazioni solo differenze io potrò sempre trovare in una scala di intervallo una scala di misura un'unità di misura in cui a Tokyo il valore numerico è il doppio che a Londra e cambiare un'unità di misura non è più vero che sia il doppio non potrò mai trovare dell'unità di misura in cui se a Tokyo fa più caldo che a Londra la temperatura è più alta che a Londra allora nell'altra scala di misura si è vero ordinale e quindi trasformando una scala ordinale in un'altra l'ordine non può essere sovvertito potrò anche dire un'affermazione che avrebbe senso fare sarebbe la differenza tra temperatura di oggi e ieri a Londra rispetto alla differenza della temperatura di oggi e ieri a Tokyo è il doppio questo lo posso fare è lecito di una scala intervallo io sto facendo una differenza tra ieri e oggi a Londra mi viene un certo numero in gradi Celsius faccio la differenza tra temperatura di oggi e ieri a Tokyo mi viene un altro numero in gradi Celsius e posso dire questo è il doppio di questo se voi rifate la stessa operazione in gradi Fahrenheit vi viene sempre il doppio cioè il numero assoluto di questa differenza è diverso il numero assoluto dell'altra differenza è diverso ma viene sempre il doppio perché facendo le differenze il termine B il termine noto del mapping si elimina e facendo il rapporto poi quando dico il doppio il termine A si elimina che è il coefficiente di proporzionalità della formula AM per più B e quindi il valore di M' di M2 meno M1 fratto M3 meno M4 di fatto è un valore indipendente dai coefficienti A e B di trasformazione tra una scala e l'altra e quindi è sensato quindi ha senso di parlare del doppio di una differenza di temperatura sì ma del doppio di una temperatura no perché è una scala intervallo se lo vogliamo riassumere in una parola leggiamo perché è una scala di tipo intervallo e quindi i rapporti non si possono fare punto non è che chi ha preso 30 sapeva il doppio di chi ha preso 15 che vuol dire ultima affermazione la differenza di temperatura tra Tokyo e Londra oggi è il doppio di quella di ieri che è l'esempio che abbiamo appena fatto quindi questa terza è l'affermazione invece che ha senso quindi hanno senso la prima e la terza non la seconda e quando ci abituiamo a avere un po' l'occhio critico su queste cose leggiamo sui giornali nelle statistiche nei bilanci nell'anno al riporto delle aziende delle affermazioni sull'andamento sui dati eccetera ci rendiamo conto di quante di quelle affermazioni non hanno senso perché sono ottenute manipolando i numeri in modi che non sono coerenti con la il valore che viene misurato qui intanto l'altra cosa sempre a livello riassuntivo dicevamo che tipo di statistiche possiamo fare allora esiste una serie di statistiche di quantità statistiche che sono quei tre signori che iniziano tutti con la M così ci aiuta a confonderle che servono tutte e tre per misurare quella che possiamo chiamare in senso astratto la tendenza centrale tendenza centrale cosa significa significa che io ho tanti valori tante misure tante entità tante entità ciascuno col suo attributo allora nella voglia di semplificare io mi chiedo ma se io dovessi sostituirli tutti con uno solo che li rappresenta con un valore solo che li rappresenta al meglio quale valore sceglierei questa è la tendenza centrale di una distribuzione è un elemento reale o immaginato o costruito che può essere in qualche modo sostituito all'intera popolazione è come ce ne sono cento diversi ma è come fossero tutti e cento come lui il famoso pollo testa in media mangiano un pollo ciascuno quando in realtà alcuni non stanno senza altri ne mangiano due è chiaro che non posso mai usare una tendenza centrale un valore aggregato statistico per andare a valutare un effetto individuale ha in media mangiato un po' la testa quindi nessuno ha fame questo è un altro errore logico che si fa prendo un valore aggregato per definire un'azione una valutazione di tipo individuale ma fa comodo farlo allora in funzione del tipo di distribuzione posso avere delle tendenze centrali quindi gli elementi rappresentativi di tipo diverso per avevamo già visto per le scale di tipo nominale l'unica cosa che posso fare è la moda la moda è un elemento che compare con maggior frequenza rispetto agli altri prendete il vostro libretto dei voti e chiedetevi qual è la vostra moda allora se avete preso due 18 e poi un 30 un 29 un 28 un 27 un 26 un 25 la moda è 18 perché è l'unica che compare due volte questa è una distribuzione parecchio asimmetrica per cui la moda casca proprio male però in una distribuzione nominale non è che possiamo dire eh sì vabbè però guarda che 28 29 27 26 sono vicini tra di loro quindi in qualche modo conteranno anche se sono diversi però le nozioni sono vicini richiede già perlomeno una nozione di ordine che una scala nominale non abbiamo ancora se invece andiamo sulla scala ordinale oltre alla moda che è l'unica cosa che posso fare no dicevamo qui io posso dire rimaniamo ancora scusate sulla scala nominale l'esempio che abbiamo fatto è la regione di provenienza allora io posso dire che sono più le persone provenienti dal Piemonte che dalla Lombardia ma non è che posso dire qual è il luogo medio di provenienza no non ha senso sulla scala ordinale che è quella dei voti oltre alla moda posso anche definire la mediana che è diversa dalla media no allora per fare la mediana cosa devo fare prendo i miei voti li metto tutti in fila indiana e poi vado a vedere il voto che c'è al centro allora nell'esempio di prima 18-18 30-29-28 27-26-25 ne avevo 8 devo innanzitutto metterli in ordine 18-18 25-26-27 28-29-30 e prendo il quarto ne avevo 8 prendo il quarto che è a metà 18-18 25-26 26 quindi in quella distribuzione la mediana è 26 la mediana è meglio della moda nel senso che non capita mai che la mediana sia un estremo il valore minimo è il valore massimo se la mediana fosse un estremo vuol dire che i valori sono tutti uguali e quindi è sempre un valore che numericamente comprerlo tra il minimo e il massimo e supponendo che uno abbia tutti i 18 o 30 o 18 o 30 beh alla fine se ha più 18 che 30 la mediana salta fuori 18 se ha più 30 che 18 la mediana salta fuori 30 quindi in qualche modo è anche rappresentativa della moda ma ci soddisfa un pochino di più ha una proprietà particolare la mediana che la mediana è come anche la moda è uno degli elementi dell'insieme cioè se dico che la mia mediana è 26 vuol dire che c'è almeno un esame in cui ho preso 26 mentre quando dico che la mia media è 27 potrebbe darsi che non abbia mai preso quel voto lì esatto ma sempre o più basso o più alti e poi la media salta fuori lì può darci fastidio o no ecco per quello che dicevo prima che la tendenza centrale è a trovare un individuo rappresentativo reale nel caso della moda ce l'ho e della mediana ce l'ho oppure costruito finto come nel caso della media devo inventarmi uno che abbia il voto del 26.4 cosa voglio dire ecco la media però la posso usare solamente con scale di tipo intervallo in su almeno una scale di tipo intervallo la durata media della lezione la posso fare l'occupazione media di un'aula la posso fare la durata è una scala intervallo l'occupazione è una scala di tipo rapporto e dalla scala rapporto assoluto può anche aver senso anche se poi intuitivamente non si usa quasi mai parlare di media geometriche anziché media aritmetiche quindi logarimiche ecco poi noi spereremmo sempre ed avevamo messo quasi come vincolo all'inizio quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose che le misure siano obiettive cioè misure il cui valore il cui esito della misurazione sia indipendente da chi compie la misura stessa allora se stiamo misurando la lunghezza di un segmento o di un tavolo o di un pezzo meccanico la misura effettivamente dovrebbe essere la più obiettiva possibile chiaramente al netto della precisione degli strumenti di misura che abbiamo c'è un errore di misura che è dato dallo strumento è dato dalla capacità dell'operatore che usa lo strumento però quando ci spostiamo dal misurare oggetti fisici al misurare processi quantità legate ai processi è un pochino anche nel definire la misura c'è sempre un pochino di soggettività vi faccio un esempio che ho ben presente noi in dipartimento tutti gli anni facciamo delle statistiche per vedere la produttività delle varie persone che lavorano in dipartimento e uno dei valori che ovviamente il primo che vai a misurare è quante persone ci sono che sembrerebbe la più oggettiva possibile delle misure vai a vedere quante persone quel giorno non ci sono come presenza fisica ma ci sono come contratto tra i dipendenti dottorandi assegnisti borsisti collaboratori eccetera eccetera quante sono le persone che afferiscono al dipartimento allora quella misura la posso definire in due modi in realtà noi quello che cerchiamo di fare è di definirla sull'anno allora un modo potrebbe essere di definirla dicendo ok al 31-12-2013 l'ultimo valore che abbiamo preso quante erano le persone in servizio boh facile oggettiva poi ti pone i problemi di quanto sia significativa una misura di questo genere puntuale oggettiva ma puntuale il 31-12-2013 cioè ma se c'era uno che c'è stato per tutto il 2013 il contratto gli è finito il 20 dicembre non lo conto e se c'è uno che invece è arrivato il 25 dicembre non nella capanna ma nel dipartimento e quindi è lì da tre giorni lo devo contare come se ci fosse stato tutto l'anno non mi piace no? è una bella misura ma misura una cosa sbagliata è facile da prendere ma poco utile e allora di fatto ci mettiamo sempre un po' di soggettività andiamo a vedere non solo quelli che sono in servizio del 31-12 sicuramente sì ma che anche abbiano avuto una presenza significativa durante l'anno cosa voglia dire presenza significativa in questo caso specifico non l'abbiamo mai definito sei mesi un giorno otto mesi nove mesi è troppo complicato definirlo non abbiamo mai avuto dubbi non ci sono mai stati problemi c'è uno che ha avuto un contrattino di due mesi tre mesi durante l'anno non lo conti uno che magari c'era già l'anno prima ha fatto buona parte dell'anno dopo lo conti cose di questo genere per cui la misura che potrebbe essere oggettiva si sceglie che non lo sia per avere un dato più rappresentativo e questo è vero in molti casi conto quanti oggetti quante persone sono entrate ma anche solo un'altra misura molto che non siamo mai riusciti ad avere in modo preciso al Politecnico è quanti sono gli iscritti ai corsi poi dite banale vai a vedere il problema è che quel numero lì è un obiettivo che si muove ogni giorno vai a vedere i numeri iscritti sono diversi hai il singolo corso ma ancora di più ai corsi di laurea perché c'è sempre quello che arriva a metà anno c'è sempre quello che se ne va a metà anno allora se devo darti un numero quale ti do? il massimo che ho avuto durante l'anno la somma di tutte le persone diverse che ci sono state perché magari uno è arrivato l'altro è andato via quello che ho l'ultimo giorno l'inizio del secondo semestre a seconda di dove lo misuro quindi c'è un po' un trade off tra dire vabbè diamo un numero con un certo grado di flessibilità rispetto al complicare la misura allora lo prendo in tre punti diversi faccio la media eccetera e quindi ci sono delle misure che tendono ad avere una componente soggettiva qui soggettivo è definito come misura il cui valore dipende dal contesto in cui vengono raccolte dalle condizioni in cui vengono raccolte in particolare soprattutto parte del contesto sono le persone che fanno le misure persone diverse possono avere e qui usiamo in italiano una terminologia un po' strana un metro di giudizio diverso dove il concetto di metro come metrica che abbiamo visto finora stride un pochino con il giudizio perché là è una misurazione esatta con delle proprietà matematiche e il giudizio invece è qualche cosa che tende a mediare o interpretare quindi è un po' strana questa frase italiana che abbiamo ma di fatto riflette la realtà nel momento in cui per alcuni tipi di processi viene misurato il giudizio più che non misurato il fenomeno oppure misurato il fenomeno attraverso il giudizio di chi lo sta misurando oppure diciamo così è influenzato dal giudizio di chi lo sta misurando è inevitabile non è gravissimo l'importante come sempre in tutte le cose è rendersi conto di dove si concentra questa soggettività qui anche per non essere poi ingannati da false tendenze ah ma guarda che bello quest'anno andiamo il 10% meglio dell'anno scorso e magari è cambiato la persona che fa le misure oppure alcune misure sono proprio intrinsecamente soggettive le misure di scala ordinale lo sono quasi tutte quando fate questionare il cpd alcuni sono persone più severe e quindi mettono tutti uno o due e un tre proprio se sono contenti no? altri invece dicono no ma tutto sommato è andato bene metto quattro metto tre solamente se mi sono trovato male due proprio se sono successe delle cose brutte è così persone quella lì vi chiedono tu cosa ne pensi più soggettivo di quello sono misure di una scala ordinale quasi sempre sono associate a un processo di misura che coinvolge le persone e quindi sono soggettive per definizione ok questo chiude il nostro discorso sulle scale di misura domani cominceremo a parlare cambiamo un po' l'ordine rispetto a quello che c'è sulle slide cominceremo a parlare dei kpi che sono quelli che operativamente ci impegneranno prima a domani